Buongiorno, dunque in primo piano il mondo della scuola. Dopo l'esperienza della SIS, chiusa ormai da anni, il Ministero dell'Istruzione ha riaperto le regole per quanto riguarda l'accesso alla professione di insegnante. Dunque ci sarà la possibilità di fare un tirocinio per un anno, tirocinio che sarà però a numero chiuso anche se di fatto darà l'opportunità d'accesso ai concorsi. Insegnanti a numero chiuso in Trentino, la buona notizia è che è stato riaperto l'accesso alla professione, la cattiva se vogliamo, e che i posti sono calibrati a seconda delle necessità, ma resta comunque elevata la possibilità di trovare lavoro dopo la laurea. Il dopo laurea una volta si chiamava SIS, chiusa ormai da anni questa esperienza, in Trentino ci sono nuove regole per l'abilitazione all'insegnamento con tirocini formativi attivi varati dal MIUR. Per l'Università di Trento la gestione è in capo alla Facoltà di Scienze Cognitive in collaborazione con Lettere e Filosofia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, 153 posti disponibili per il primo anno. Dopo la laurea quindi tirocinio di un anno necessario per accedere ai concorsi, esame finale. L'accesso è a numero chiuso, programmato cioè annualmente dall'Università, secondo indicazioni del MIUR, sulla base della programmazione regionale degli organici del fabbisogno di insegnanti nelle scuole statali. Dopo il posto è garantito? C'è possibilità o seguiranno altri anni di precariato? Io penso che parlare di garanzie sia impossibile. Il fatto che noi abbiamo in accordo con la provincia definito un numero di posti molto contenuto, 153 per quest'anno, non dico che sia una garanzia ma ovviamente fa aumentare le probabilità di successo nel futuro professionale per coloro che riusciranno a superare tutte le varie prove.